Ne abbiamo aperti un centinaio punti vaccinali in Sicilia nelle ultime settimane, con la protezione civile regionale, con i commissari per la lotta al Covid, col personale sanitario. In ogni provincia, in ogni città andiamo incontro ai cittadini, anche ai più riottosi, anche ai più diffidenti, perché abbiamo spiegato in mille occasioni che l'unica salvezza si chiama vaccino e ogni punto vaccinale è una tappa lungo il percorso della speranza. Qui siamo ad Acireale, in provincia di Catania, dove l'hub vaccinale è stato realizzato dai nostri volontari e funzionari della protezione civile all'interno del Palasport Tupparello. Ieri ne abbiamo aperti altri due, domani saranno inaugurati altri punti vaccinali, fra i quali quello di Gela, in provincia di Caltanissetta. Alcuni sono stati già aperti alle porte di Palermo. Non ci fermiamo un attimo perché dobbiamo utilizzare i mesi estivi per poter immunizzare tutta la comunità siciliana, in modo che, speriamo, a settembre o comunque alla fine dell'estate si possa mettere il punto finale in questo triste, triste calvario che ha segnato tante morti, tanto dolore, tanta disperazione, tanta sofferenza, a cominciare dagli operatori economici.